Perfetto. Lo sai invece che ti parlo di Belardi, incontro oggi con il Padova, perché il Padova non ha intenzione di confermare Pelizzoli, offerta del Catania che prende Frison ma vorrebbe un portiere esperto, Belardi ha detto no grazie perché mi vorrei avvicinare al nord, Sassuolo, Novara e Cesena, quindi Padova, Novara, si giocano Belardi, oggi incontro con il Padova. Lo sai che all'Odinese resterà naturalmente Totò di Natale, Freddo lo sai che il Catania per il centrocampo è vicino a Giuseppe Rizzo della Regina, Salerno oggi ha incontrato Lillo Foti a Lilton di Milano dove il DSTN ha parlato anche del futuro di Maxi Lopez, Andrea D'Amico, verso Novara il fantasista argentino, Adrian Ricchiuti verso Novara.